Oggi ho proprio fame ragazzi, guardate ho una fame, qua mi faccio un bel hamburger, chissà, forse sono stato ispirato dal fatto che ho giocato e anzi ho platinato in un'ora e due minuti My friend Peppa Pig, per gli amici la mia amica Peppa Pig Non sto scherzando, è tutto vero, è successo in diretta, i fatti lo dimostrano, sono stato capace di platinare uno dei giochi più brutti che abbia mai visto sulla faccia del pianeta Veramente uno schifo, lo dovresti sapere, di solito non mi scaldo così tanto eppure la mia amica Peppa Pig secondo me non è un gioco brutto perché è un gioco di Peppa Pig È facile fare la critica ai giochi per bambini, no, è che questo gioco oggettivamente è proprio brutto anche per un bambino Cioè non è un gioco educativo, non è un gioco che stimola qualche cosa nel cervello dei più piccoli, no Questo l'unica cosa che ti stimola è o andare al bagno, disinstallarlo, rimpiangere di averci speso anche soldi Ultimo, ma non per importanza, di andarti a fare un bel hamburger Naturalmente un saluto a tutti gli amici vegetariani e vegani che ci seguono Massimo rispetto, è uno scherzo, una battutina Ma è tempo di investigare a fondo sul perché effettivamente questo gioco sia così brutto E che sia effettivamente più un danno per i bambini che effettivamente un momento di divertimento, di allegria Ora, è vero che il cartone animato, che io adesso non voglio discolparmi, però non ho mai visto penso una puntata intera Però ho visto tante clip, c'è sempre Peppa che fa Ciao io sono Peppa Pig, questo è il mio fratellino Giorgio E poi tutti i genitori si buttano per terra, insomma vabbè Ho scoperto comunque sia grande l'ora di Peppa Pig proprio grazie al gioco Quindi ho conosciuto anche i nonni, la scuola, la maestra, una tizia sulla mongolfiera, il museo, insomma tutte bellissime cose Ma poi c'era una location in particolare che mi ha colpito più di ogni altra cosa E sto parlando di Patata City Perché? Perché? Perché chiamare Patata City? Tra l'altro con chiari riferimenti perché la gente fa Eh, non vedo l'ora di andare a Patata City, che bello, sarà pieno di patate Voi immaginatevi poi un bambino di 3-4 anni e fa Mamma, mamma, voglio andare a Patata City Non lo so, non lo so, è un po' strano Ma sul fronte del gameplay, che problemi ci sono? Tutto, tutto, perché il gameplay innanzitutto non esiste Non c'è, non c'è Ti devi muovere a destra e a sinistra in questi scenari Che vabbè, è fatto come il cartone animato, quindi brutti Semplici, proprio super semplici Ti muovi a destra e a sinistra e poi premi un Un, e lo voglio ripetere Un solo tasto per interagire, per parlare, per fare delle cose È proprio un gioco spento È un gioco brutto, con la B maiuscola Ci sono tanti titoli, mi viene anche da pensare un Astros Playroom Un Sackboy a Big Adventure Che sono 10.000 volte meglio Ma non solamente perché il comparto tecnico Perché il tutto, perché Super Station 5, eccetera eccetera No, ma perché proprio in termini di gameplay Ti stimola a fare qualcosa Cioè, comunque il platform carino Batuffoloso Che ti fa comunque rimanere col sorriso in faccia È uno stile che può essere applicato E che fortunatamente grazie al cielo ci sono tanti giochi che lo fanno E che secondo me stimolano comunque anche i più piccoli A magari, non so, un po' a sviluppare i tempi di reazione Visto che è provato anche scientificamente Che i videogiochi aiutano anche quello La creatività Gli stimoli in generale di vedere colori Situazioni diverse Ma mai ovviamente brusche, violente Cioè, è sempre un gioco ovviamente adatto anche più piccoli E perché il gioco di Peppa Pig non lo fa? Certo, potresti anche dire Vabbè, Frank, te la stai prendendo Con praticamente un morto che cammina È ovvio che il gioco di Peppa Pig Poteva essere così E no, perché comunque Se permetti, secondo me A maggior ragione che hai C'è una licenza comunque molto popolare Molto conosciuta Fatta apposta per i più piccoli Secondo me le possibilità di farci Diversi giochi Magari più simpatici Magari più divertenti C'erano Poi sì, è ovvio Io non sono proprio il target di riferimento Del gioco di Peppa Pig Però ad esempio Guardate Spongebob Cioè, Spongebob è un cartone animato Che comunque Ha una forbice di utenza abbastanza ampia Però comunque Punta anche lì per i più piccoli Perché i giochi di Spongebob Sono fatti molto bene Sono dei platform adventure molto simpatici Sono dei collectaton fatti bene Con gli omaggi alla serie Gli omaggi ai personaggi Una storia talvolta anche originale Perché non si può fare quel tipo di lavoro Anche con altri prodotti E poi Certo Io l'ho provato su PlayStation 5 E all'inizio Un po' per ridere Per scherzare Dicevo Vabbè andiamo nelle impostazioni Vediamo un po' Le modalità grafiche Poi ci sono rimasto Perché c'erano effettivamente C'erano prestazioni E fedeltà Ma che Ma cosa cambia? Ma su un gioco del genere Cos'è? Mi attivi il ray tracing Sulla skin di Peppa? Cioè No Per favore No È una follia È proprio un gioco folle Vorrei conoscere Chi ci ha lavorato Perché secondo me Un po' Si sono vergognati E poi Meno male che io l'ho provato Su PlayStation Plus Perché se no il gioco Costa 39 euro E 99 centesimi Folli Sono veramente scioccato Perché veramente Di giochi brutti Ne ho visti Ma questo è proprio quel brutto Talmente brutto Che non dà niente Cioè Il bambino che ci gioca Alla fine della partita Che cosa ha imparato? Ciao Sono Peppa Pig? No Che puoi divertirti In qualche modo I tempi di reazione? No La creatività La ricerca? L'intuito di risolvere Dei rompicapi? No Niente È un gioco Che danneggia Le menti dei più piccoli Quindi Se tu sei alla scuola E sei un papà E hai un Una madre ovviamente E hai Un bambino Una bambina No Cioè proprio Non fargli giocare Il gioco di Peppa Pig Piuttosto Astro's Playroom Che è gratis Dentro per Station 5 Sackboy A Big Adventure I giochi di Spongebob Ce ne sono 800.000 Lego Chucky Drive Cioè Ce ne sono 3000 Di giochi più belli Fatti bene Per stimolare Comunque Dei tratti Della psiche Del cervello Della logica Di ogni persona Di ogni bambino Ma il gioco di Peppa Pig No Il gioco di Peppa Pig Io lo bandirei ragazzi Lo bandirei per sé Comunque Spero che questa Possa essere l'unica volta Che mi metto a parlare male Di un videogioco Ma Chi lo sa Magari potrebbe anche Diventare una serie E nell'attesa di scoprire Se ci sono altri giochi brutti Di questo tipo Non posso fare altro Che ricordarti di vedere L'ultimo video uscito finora Che trovi qua a destra Oppure a sinistra La playlist del Frank News Con tutte le notizie Per rimanere sempre aggiornato Sul mondo videoludico Tecnologico E poi basta Perché altrimenti Sarebo un TG